Crescono le domande inviate dalle banche al fondo di garanzia per conto dei clienti nell'ambito delle misure di sostegno per l'emergenza coronavirus. Secondo quanto riferisce l'associazione bancaria italiana, al 7 maggio le domande arrivate al fondo sono 116.000, mentre quelle fino a 25.000 euro sono diventate 93.000. In quattro giorni, dal 4 al 7 maggio, le banche hanno inviato 44.000 domande al fondo di garanzia, di cui 41.000 fino ai 25.000 euro.